ahahah mi dispiace la riporta, non è niente 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 getting there getting there I'm already able to drop on the board but I'm moving slow pa I lack speed yay I felt I glided I skimmed pero I want to grapple some more kasi para I got it na noto no 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 and I'm really enjoying it it was really hard at first but then that's the fun in it che puoi praticare, che puoi praticare, che puoi fare bene. E per questo session, mi sono contento sul lavoro, perché non è molto facile, quindi ho avuto l'acchietto. E ho avuto l'acchietto. E è davvero qualcosa che non ho avuto l'acchietto, ma perché ho avuto l'acchietto, perché ho avuto l'acchietto, quando ho avuto l'acchietto o l'acchietto, ho avuto l'acchietto.